E' il grido di battaglia anche di disperazione dei commercianti del centro. O l'area della Prandina in Corso Milano diventerà un parcheggio, molti negozi del centro storico non arriveranno vivi al 2019, dicono. Bisogna quindi fare presto. Dobbiamo iniziare a realizzare questo parcheggio alla Prandina, mille posti auto, l'hanno detto praticamente tutti, da tutte le parti politiche. L'amministrazione passata ci stava lavorando. Oggi i negozianti della ACC hanno simbolicamente consegnato le chiavi delle loro attività all'assessore al commercio Antonio Bressa, una scena già vista nel 2013 con la ex collega Marta Dallavecchia della giunta di centro-sinistra di Ivorossi. Dietro ogni chiave c'è una famiglia, c'è una vita di lavoro, ci sono dei dipendenti, ci sono dei figli da mantenere, ci sono dei mutui da pagare, ci sono le ricevute bancarie che puntualmente ogni mese dobbiamo versare. L'assessore ha ricordato che sono in corso trattative del Comune con il demanio militare per ottenere l'area che alla Prandina si pensa di non fare solo un parcheggio. C'è spazio per fare parcheggi, c'è spazio per fare altre cose, c'è spazio per fare parco, c'è spazio per fare tante cose. Per cui le esigenze di parcheggio sicuramente potranno essere in buona parte assorbite.